Kevin, contro il Genoa per te un turno di riposo, però dopo bene 17 partite consecutive da titolare. La tua prima stagione qui in bianco-nero sei già diventato un elemento molto importante in questa squadra. Sì, diciamo che sono stato costretto a rimanere in box per un colpo ricevuto, però sì, sono contento di quello che sto facendo, della stagione che stiamo facendo e poi domenica a Genoa sono stati i miei compagni all'altezza sicuramente. Il fatto che Gotti ti abbia inserito stabilmente nell'ennovero dei titolari è anche figlio della tua versatilità, infatti hai dimostrato in queste partite di cavartela molto egregiamente sia da difensore centrale che sull'audidestra. Sì, sì, infatti questa è una qualità che devo mantenere perché mi permette di poter giocare più partite possibili. Continuerò a fare così e spero che il mister mi darà sempre fiducia. È un reparto, quello difensivo, veramente ricco di concorrenza perché oltre a te ci sono giocatori come Noiting, come Samir, come Becao e lo stesso De Maio che sono tutti meritevoli di un posto da titolare. Secondo te anche proprio questo fatto di essere sempre tutti in corsa per un posto da titolare è un po' il motivo che vi ha portati a essere una delle difese meno perforate di questo campionato? Beh, sicuramente questo stimola la quotidianità nell'allenarsi, nel dare sempre il meglio di sé e poi è anche frutto delle nostre qualità, come dicevi tu. Quando c'è stata l'occorrenza che è mancato uno, c'era l'altro, eravamo stati sempre chiamati in causa in momenti magari di difficoltà e abbiamo sempre risposto presente. Uno sguardo adesso alla prossima avversaria, la Lazio, che è attesa prima dell'incontro contro l'Udinese anche dall'impegno di Champions League che magari li potrà togliere qualche energia. Una squadra, quella di Simone Inzaghi, che non sta vivendo un momento brillantissimo in campionato, da parte vostra invece nove risultati utili nelle ultime dieci partite e soprattutto la voglia di bissare quel fantastico successo della gara di andata all'Olimpico. Sì, sì, sono d'accordo, però è vero che la Lazio non è nel suo miglior momento ma parliamo di una squadra che ha grandissime individualità e anche un collettivo unito da anni con un allenatore che è lì da più anni, quindi le difficoltà sono tante e noi cercheremo di mettere in campo quello che stiamo facendo, né di più né di meno, con rispetto dell'avversario ma con la consapevolezza che ormai siamo diventati una realtà. In questi giorni ci sono state anche le parole del patron Gianpaolo Pozzo che vi stimola a guardare più in alto della salvezza, cercare di arrivare a fine campionato entro le prime dieci. Sassuolo e Verona sono alla portata, tu dove vedi questa squadra alla fine del campionato? È giusto così, il presidente è ambizioso e ci trasmette l'ambizione di migliorare. È chiaro che noi valutiamo step per step, noi dobbiamo arrivare innanzitutto a 40 punti e lo dico veramente perché non sembra scontato, dopodiché una volta che arriviamo a 40 punti siamo noi i primi a voler raggiungere posizioni più agiate.